Dalle mascherine alla misurazione della temperatura, quali sono i comportamenti corretti da tenere per rientrare a scuola in sicurezza? Sono i temi che tengono banco a pochi giorni dalla data fissata per la prima campanella il 24 settembre. Personale scolastico, famiglie e studenti ripartiranno con il nuovo anno scolastico in maniera del tutto diversa rispetto al passato e mentre prosegue lo screening obbligatorio per il personale scolastico a due settimane dall'apertura delle scuole in Campania, sono oltre 80.000 i docenti e non docenti che si sono sottoposti allo screening ed hanno effettuato il test sierologico. Per ora si registrano solo quattro positivi e si conta di arrivare a 140.000 test in tempo per il 24 settembre, data in cui si apre la scuola in Campania. Lo ha rimarcato il presidente della regione campania Vincenzo De Luca nel corso di una diretta Facebook. Sui risultati, ha aggiunto, si procede per autocertificazione. Molti ci chiedono cosa fare, se hanno fatto il test e non hanno ancora i risultati. Si fa l'autocertificazione per dire che hanno fatto il test, poi i controlli a campioni arriveranno. Ricordo anche, ha detto De Luca, che a oggi non è arrivata nessuna comunicazione sul numero di banchi singoli per la Campania, sul numero di docenti e supplenti. Navighiamo in mare di grande precarietà. Abbiamo avuto un esempio di improvvisazione che avremmo potuto rispiammarci. Ha continuato, intanto ha lanciato un appello per non prendere gli insegnanti campani già in ruolo e mandarli a 500 chilometri di distanza per l'organizzazione cervellotica del ministero. Intanto si è chiusa la manifestazione di interesse riservata agli istituti scolastici per ottenere il bonus di 3.000 euro della regione che sarà destinato all'acquisto di termoscanner con telecamera. Inoltre, ciascun plesso scolastico sarà anche dotato delle cosiddette pistole per la misurazione singola della temperatura corporea degli studenti all'interno delle scuole. Hanno aderito in tutta la Campania 919 istituti scolastici. Oltre 200 invece le scuole salernitane che hanno risposto al bando della regione Campania per avere il contributo di 3.000 euro finalizzato all'acquisto di termoscanner. Grazie. 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 Grazie.